TELESPETTATRICI, TELESPETTATORI DI TELESPETTATRICI, TELESPETTATORI, TELESPETTATORI perché davvero il dottore Ingardia ha già dato proprio l'idea di quanti possono essere gli argomenti legati alla sua specializzazione, specialista in anestesia e reanimazione, terapia antalgica e terapia del dolore, dottore. Eccoci, diciamo che nell'ambito del corso di studi in effetti ci danno un ventaglio di possibilità abbastanza ampio che non va solo dal punto di vista dell'anestesia, quindi la farmacologia, la chimica e quant'altro, ma anche la rianimazione, anche la terapia del dolore e diciamo che poi in effetti noi lavoriamo in tutti gli ambiti, diciamo clinici, quindi dall'ambulatorio alla sala operatoria, al territorio, perché no, rianimatori sul territorio ce ne sono e quindi abbiamo in effetti un bagaglio abbastanza ampio di trattamento. Peraltro questa specializzazione in anestesia e reanimazione, così importante, così determinante per tutti noi, per tutti coloro che nella vita affrontano questo momento di dover entrare in sala operatoria e passare attraverso l'anestesia. Mi diceva addirittura che lei l'ha provato non solo da un punto di vista didattico, avendolo studiato, ma anche sulla sua pelle. Quindi c'è comunque, è normale avere timore, un po' di paura dell'anestesia e di tutto quello che ne consegue oppure no, dottore? Allora, premesso che appunto, avendolo provato sulla mia pelle, sono abbastanza empatico nei confronti dei miei pazienti e quindi capisco quali possono essere le difficoltà, le reticenze, le paure. La paura è normale perché la paura fa parte della natura umana e soprattutto quando si affronta una situazione che non si conosce, la famosa paura dell'ignoto, cioè la paura sta nell'anestesia proprio nel affidarsi a qualcun altro completamente, affidare la propria vita nelle mani di qualcun altro senza sapere che cosa succederà poi all'atto pratico, benché si sappia che comunque non è che si affida al primo che capita per la strada, si affida a un professionista la propria vita, però cosa succederà? Punto di domanda. Io che sono un professionista e soprattutto che ho vissuto questa esperienza, lo so cosa succederà, ma trasmetterlo ai nostri pazienti è un po' più problematico a volte. Un esempio molto vicino a noi, molto da un punto di vista temporale, la settimana scorsa ho visitato un paziente, quindi una visita anestesiologica in previsione di un intervento anche abbastanza semplice per me chiaramente, perché poi definire semplice o difficile è sempre soggettivo a questa cosa. Dipende dai punti di vista. Dipende sempre dai punti di vista, però visitando questo paziente ho percepito immediatamente la sua resistenza nel recepire anche le nozioni che gli stavo dando, perché lo vedevo molto molto teso, sudato durante la visita e quindi io ho cercato comunque di tranquillizzarlo e spiegargli quali potevano essere le implicazioni sia chirurgiche che anestesiologiche, chirurgiche perché durante la visita, per non so quale motivo, aveva avuto paura di chiedere chissà quali cose al chirurgo, quindi glielo ho dovuto rispiegare io e poi anche spiegargli il tipo di anestesia. Questa persona era veramente impaurita e preoccupata e diciamo che ho perso un'ora abbondante per spiegargli che poteva stare tranquillo, era in ottime mani e quello che poteva succedere da un punto di vista statistico era sicuramente più sicuro che non affrontare, che ne so, l'attraversamento della strada sotto casa sua. Tanto per dire! Quindi un'anestesia generale al giorno d'oggi è un evento estremamente sicuro da un punto di vista sia farmacologico sia appunto dell'utilizzo dei farmaci che sono molto sicuri, ma soprattutto per il fatto che c'è un monitoraggio completo delle funzioni vitali in sala operatoria che impone un controllo immediato in tempo reale di tutto quello che succede nel paziente. Il professionista, l'anestesista è sempre accanto al paziente, lo monitorizza, lo osserva, lo controlla e quindi tutto ciò che succede dentro e intorno a lui è super controllato insomma. Pensate a questo concetto, il dottore Ingardia ha detto sono stato un'ora col paziente, quindi questo sviluppo anche della capacità e della volontà di interagire e di entrare in sintonia con una persona che affida appunto la sua vita nelle mani del professionista. Consideriamo anche un'altra cosa dottore, in fondo noi ragioniamo sulla eventuale paura dell'anestesia, esistono situazioni al mondo in cui l'anestesia non c'è per affrontare certe situazioni, quindi immaginiamoci cosa vuol dire appunto. Ancora, ancora nel terzo millennio in effetti siamo abbastanza indietro. Esatto e questo è davvero un elemento di riflessione importante. Dottore, lei è specialista in terapia antalgica, terapia del dolore, volevamo affrontare anche degli argomenti abbastanza importanti, perché? Perché riguardano tante persone, quello per esempio della cervicalgia, che in poche parole io l'ho definito è il dolore legato alla cervicale, ma che cos'è la cervicale? Quando è che una persona può dire ho la cervicale e mi fa male il collo, mi fanno male le spalle? Quali sono questi sintomi? Allora, come diciamo evidenzia la parola stessa, quindi cervicalgia e poi nella sua estensione anche cervicobrachialgia, poi lo vedremo, in realtà si tratta più di un sintomo che di una vera e propria diagnosi, nel senso che nell'ambito della parola c'è algia che significa dolore. Allora, si tratta di una serie di patologie abbastanza frequenti, perché poi a lato pratico interessano da un punto di vista di incidenza il 30-50%, dal 30 al 50% della popolazione ogni anno, la cervicalgia e quindi la cervicale in effetti può interessare tutta l'età, quindi dai bambini agli adulti e agli anziani e il riconoscimento della patologia dipende proprio da, quindi il parlare, il colloquiare con il paziente e quindi capire realmente quello che, quindi una curata anamnesi, un esame obiettivo, capire realmente quello che gli sta succedendo. A lato pratico mettere insieme dolore e impotenza funzionale al collo e quindi anche a tutto ciò che è correlato, quindi anche all'alto superiore eccetera, già evidenziano, già si fa diagnosi di patologia, dopodiché chiaramente si va ad analizzare tutto ciò che c'è a monte, quindi ciò che ha provocato diciamo questa situazione e il più delle volte si tratta di lavori sedentari, di posture viziate, di esposizione al freddo per esempio, lavori sembra una cosa molto strana però lavori dove c'è una forte componente psicologica a riguardo. in effetti possono predisporre questo tipo di problematica, quindi come vedete in effetti al giorno d'oggi è un problema abbastanza comune che interessa una buona fetta della popolazione. Poi è chiaro che ci sono cause più specifiche, meno frequenti ma più specifiche come possono essere per esempio traumi, fratture o discopatie, artrosi, artriti che interessano le articolazioni vertebrali o cause ancora più rare, benché più ad impatto come per esempio tumori o che ne so, dismetabolismi, patologie congenite eccetera, però al lato pratico la causa principale è più che altro una postura viziata. e oggi come oggi in effetti con i lavori che facciamo, lo stazionare molto davanti a un videoterminale, quindi davanti al computer, lavori d'ufficio eccetera, predispongono parecchio allo sviluppo di questo tipo di problematica. Ma si può ricondurre la cervicale al classico mal di testa oppure no? Allora diciamo che il mal di testa può essere una componente della cervicalgia, spesso volentieri quando la problematica interessa da un punto di vista per esempio infiammatorio le fasce muscolari, spesso volentieri la cefalea tensiva è un aspetto della cervicalgia, quindi si associa questa componente in più che comunque può rappresentare un campanello d'allarme per arrivare poi alla diagnosi cervicalgia. E una volta fatta la diagnosi dobbiamo anche pensare a come curarla, quindi sicuramente c'è, avendo parlato di postura, un intervento importante che potrebbe fare per esempio, e non a caso siamo in una struttura come questa, la fisioterapia ma anche un insieme di modalità per affrontare poi la patologia e curarla. Assolutamente sì, nel senso che è una patologia che in apparenza semplice nella sua complessità in realtà deve essere trattata a livello multidisciplinare, quindi le figure coinvolte nel trattamento della cervicalgia e della cervicobrachialgia sono quasi sempre l'anestesista che si occupa di terapia del dolore, ma anche il fisioterapista, a volte l'ortopedico, a volte il neurologo, il neurochirurgo, va bene, ma diciamo che il primo approccio in linea di massima terapeutico è quasi sempre la terapia fisica, la terapia riabilitativa, che tende poi a dare al paziente anche consigli su quello che è la prevenzione di eventuali episodi successivi, quindi i trattamenti riabilitativi, trattamenti posturali, che aiutano il paziente a capire anche cosa è stato sbagliato e che l'ha portato ad avere questa tipologia di problema. L'ha nominata diverse volte, cervicobrachialgia, in realtà è un'estensione della cervicalgia, cioè i sintomi si manifestano ancora più distretti rispetto semplicemente a quello cervicale. Certo, mentre la cervicalgia interessa prevalentemente il tratto del collo, va bene, fino alle scapole e alle spalle, la cervicobrachialgia è un'estensione e può interessare anche tutto il discorso scapola, cingolo scapolare, articolazione della spalla e tutto lato superiore, quindi è proprio un'estensione perché interessa prevalentemente quelle, da un punto di vista sia meccanico che infiammatorio, le radici nervose del plesso brachiale che quindi vanno da C5, indicativamente quindi dalla quinta vertebra cervicale fino a T1, qualcuno lo definisce C8, T1, sono le radici terminali del plesso brachiale e quindi interessa tutto il tratto diciamo più distale dell'arachide cervicale. A questo punto la sintomatologia ovviamente è un po' più complessa rispetto alla semplice cervicale e quindi può interessare anche da un punto di vista neuropatico quindi con sintomi come parestesie, formicolio e in potenza funzionale non solo l'arachide cervicale ma anche tutto l'arto superiore. Le volevo chiedere una cosa, lei è specialista appunto in terapia del dolore, però tante volte noi umani del dolore abbiamo paura, siamo intimoriti dal dolore, dal male, ma in realtà è una sensazione che madre natura ci ha dato per un motivo. Certo, perché il più delle volte quando si tratta di una situazione acuta il dolore è un meccanismo di difesa, perché il dolore tende a farci allontanare da quella causa che ci ha provocato quella determinata situazione patologica. Il più delle volte il dolore acuto proprio serve a dare un campanello d'allarme e a identificare una causa che se rimossa in tempi diciamo brevi, poi porterà sicuramente alla guarigione della problematica. Ci sono situazioni, ahimè, in cui una volta che si sono instaurati dei meccanismi diciamo di, diciamo come posso definire, di circoli viziosi, la problematica si è perpetrata per tanto tempo eccetera, il dolore dalla periferia si è centralizzato, quindi ha attraversato il midollo spinale, è arrivato a livello della corteccia sensitiva e ha innescato quei meccanismi di memoria del dolore, a quel punto purtroppo si cronicizza e a quel punto non è più il dolore come sintomo che serve a neutralizzare la malattia una volta che si è tolta la causa, ma a quel punto diventa il dolore una malattia stessa, una volta che si è cronicizzato e questo è già più difficile da trattare. E certo, oltretutto fare terapia del dolore significa appunto intervenire poi anche con farmaci e con situazioni che hanno insomma un effetto sull'organismo non indifferente e a questo proposito, lei prima ha parlato di anestesia, abbiamo parlato di anestesia, si utilizzano determinati farmaci in caso di anestesia, uno di questi è il fentanyl iniettabile, giusto? Questo fentanyl, questa molecola che è opioide, che è un po' al centro dell'attenzione medica perché? Perché con la storia che ci arriva al di là dell'oceano dagli Stati Uniti c'è un utilizzo sicuramente sbagliato di questa molecola, ma noi in Italia in che situazione siamo con l'utilizzo del fentanyl? Allora, per fortuna in Italia o comunque in Europa non siamo ancora, mi auguro che non arriveremo mai ai livelli anglosassi, non comunque americani, sull'utilizzo diciamo smodato, voluttuario degli oppiacei perché dal lato pratico il fentanile che cos'è? Il fentanile intanto identifichiamolo, è il principale analgesico che viene utilizzato in sala operatoria per diciamo nell'ambito dei tre farmaci dell'anestesia generale, quindi l'ipnoinducente, l'analgesico che è l'oppiaceo, quindi il fentanile e il mio risolutore. È un cardine dell'anestesia generale. Non abbiamo cultura a livello italiano sullo spaccio di questo farmaco all'esterno delle strutture ospedaliere come può avvenire a livello americano perché comunque non abbiamo una cultura di utilizzo disinvolto di questa categoria di farmaci perché siamo ancora molto legati all'utilizzo di analgesici diciamo tra virgolette minori come gli antinfiammatori, come il paracetamolo eccetera. L'utilizzo degli oppiacei è bene o male ancora controllato, ancora molto selezionato e pertanto non demonizzerei in questo momento diciamo alle nostre latitudini l'utilizzo e non demonizzerei la molecola stessa perché diciamo è un farmaco utilissimo in saloperatoria, da un punto di vista voluttuario può essere appetibile perché è un farmaco che è sicuramente molto potente dal punto di vista analgesico, ha una potenza analgesica che è 100 volte superiore rispetto alla morfina e almeno 80 volte più potente dell'euroina, però voglio dire è confinato all'utilizzo ospedaliero. Da un punto di vista della gestione del dolore cronico per esempio abbiamo una variante del fentanile che è il fentanile transdermico quindi l'utilizzo in cerotto, però proprio per il suo meccanismo d'azione a lento rilascio controllato non è sicuramente oggetto di abuso, ciò non toglie che però nell'utilizzo cronico a lungo termine possa dare una dipendenza fisica, ma la dipendenza fisica legata all'utilizzo di questa categoria farmacologica è comunque controllabile, nel senso che non abbiamo mai una via senza ritorno sull'utilizzo di questi farmaci, riusciamo sempre a, almeno diciamo nelle nostre strutture sanitarie, riusciamo comunque a controllare adeguatamente l'utilizzo di questi farmaci. Anche perché poi chi si trova a fare l'utilizzo di questi farmaci vive situazioni particolari, sappiamo benissimo che sono legate a terapie magari indirizzate a persone terminali, è sempre un termine che fa una certa impressione, un certo effetto, però così è molto spesso oppure per dolori veramente molto molto forti. Allora sì, diciamo che lo stereotipo nella nostra società è che l'utilizzo di questi farmaci o piace, i maggiori, sia da limitare l'utilizzo del dolore oncologico, nella realtà dei fatti siccome il dolore cronico in realtà oggi come oggi interessa a una buona fetta della popolazione, non è diciamo confinato solo l'utilizzo del dolore, nell'ambito del dolore oncologico. Questi farmaci possono essere utilizzati in tutte le tipologie di dolore cronico, dipende soggettivamente sempre da come viene percepito il dolore da parte delle persone, per cui trattarlo con farmaci che sicuramente hanno un'implicazione nel dolore cronico, quindi a differenza degli antinfiammatori, non steroide o steroidei stessi, gli oppiaci hanno la prerogativa di poter insieme ad altri adiuvanti, a farmaci e ad azione centrale, antidepressivi, antiepilettici, eccetera, hanno la prerogativa di poter essere utilizzati nel cronico, quindi dare meno effetti collaterali sia a livello gastrico, sia a livello renale, a livello del sistema emocoagulativo, eccetera, consentono appunto un utilizzo cronico perché hanno la possibilità di attraversare la barriera ematoencefalica e quindi di andare a trattare quella componente di dolore centralizzato di memoria del dolore stesso e quindi di gestire quella fetta di dolore cronico che normalmente è più difficile da trattare con altre tipologie di trattamento. Queste persone chiaramente sono più legate, si legano anche affettivamente all'utilizzo di questi farmaci perché si rendono conto che sono gli unici che sono idonei a trattare la loro tipologia di dolore. Nel momento in cui abbiamo stabilizzato la terapia però e con dosaggio ottimale che spesso e volentieri è la minima dose efficace del farmaco stesso, si riesce a gestire controllando anche gli effetti collaterali nel lungo termine questi pazienti. Poi se la sintomatologia si dovesse ulteriormente stabilizzare si può pensare con adeguati percorsi di svezzamento da parte di questi farmaci, si può arrivare anche a toglierli nel futuro. Non è necessario arrivare ad assumerli poi per tutta la vita e quindi spesso e volentieri appunto io perdo molto tempo nella visita di questi pazienti per spiegargli anche queste implicazioni nell'utilizzo delle terapie che normalmente io do a livello ambulatoriale. E noi dottore la ringraziamo tantissimo perché lei ci ha dato davvero chiarezza su quello che significa fare terapia del dolore, questo è agire per far terapia del dolore, il professionista, il medico in grado di farlo appunto seguendo protocolli, seguendo percorsi e studiando la situazione di un paziente nel corso del tempo, quindi è molto molto evidente ciò che ci ha detto in merito all'utilizzo di questi farmaci e questo significa fare cultura e per questo noi ringraziamo davvero la possibilità di farlo in questo ambiente, in questo salottino creato qui a Fisioradi perché è l'obiettivo che ci poniamo con queste chiacchierate. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a lei. A vederci. Ci vediamo lunedì prossimo, continuate a restare su Rossini TV, buona serata a tutti voi. Grazie a tutti.